Il 14 novembre, in occasione della Notte dei Ricercatori d'Abruzzo 2014, sarà a Lanciano, presso l'Officina Storica della Sangritana, Maurizio Martina, Ministro dell'Agricoltura con delega all'Expo 2015. Tu hai la possibilità di rivolgere al Ministro una domanda sul tema, il futuro dei giovani nelle professioni della terra. Cosa vuoi chiedere al Ministro? Io vorrei chiedere al Ministro quali sono le motivazioni e le prospettive che possono spingere i giovani a ritornare alla terra e quindi a dedicarsi a queste professioni. Mi chiamo Mariangela Ceriberti, ho 35 anni, sono di ATS in provincia di Chieti, mi occupo di giornalismo e comunicazione e amo molto viaggiare, la letteratura e il cinema.